Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi, dopo tanto tempo, torneremo ad analizzare un drop di Supreme per quel che è il giovedì della settima settimana, mi sembra, settima settimana, cioè, capite? Della collezione Primavera-Estate che vedrà uscire i prodotti in collaborazione con North Face, cioè Supreme per the North Face. Questa collaborazione è già stata presente per l'inverno, la ripropongano anche per l'estate. Quello che volevo fare era quindi dare un commento insieme a voi e un giudizio, poi, personale, in quanto poi il canale è mio. Colleghiamoci, perciò, subito sul sito Supreme Community, vediamo un po' i prodotti che ci vengano proposti, cioè, io li ho già visti, voi li avete già visti. Facciamo finta di non averli ancora visti e quindi diamo un commento insieme. Prima cosa che risalta sono le magliette e le felpe, che sono, secondo me, tra tutti i prodotti quelli più gettonabili, insieme, forse, forse, al Monte in Parca. Allora, magliette e felpe con la stessa stampa, piuttosto basic, semplici, cioè, come stampa non è che mi faccia impazzire, perché per questa collezione hanno giocato sul fatto del metallizzato. Vedete che, cioè, non è proprio bellissima esteticamente, però nemmeno brutta, ecco, è una cosa abbastanza abbordabile. Anche se, quello che dico io, che potete vedere anche sulla manetta bianca, non è che si capisca benissimo entrambi i loghi. Vabbè, gusti personali. Comunque, vediamo che sono tra quelle che hanno ricevuto più voti positivi rispetto ai negativi. Successivamente, invece, citavo prima i Monte in Parca. E qui, raga, secondo me si apre un secondo, una parentesi a sé. Allora, se uno riesce ad abbinarli bene, può farci una foto da AppBeast, sono fighi. Se no, con questi uno può diventare ufficialmente un sacchetto tipo di carta da regalo. Oppure, all'interno tipo della carta da uovo di Pasqua, non so se l'avete presenti, no? Dentro sono fatti di questi colori qui metallizzati. Specialmente quello grigio. Allora, tra tutti e tre, quello che mi piace di più è comunque quello grigio a me. Quello rosa e quello oro, quello bronzo e quello oro, insomma, non è che mi entusiasmi, no? Quello grigio, sì, ci può stare, mi piace. Con questa linea guida, poi, ci vengono offerti tutti gli altri prodotti. Ovvero, presenteranno delle shoulder bag, che sono i marzupi classici tipo tracolla. Poi ci sono i zaini, che sarebbero anche stati fighi, ma con questa colorazione, cioè, veramente, sono picchi in un occhio, secondo me. Non puoi comprarlo. I borzelli, i marzupi, scusate, non borzelli, sempre con gli stessi colori. Ci vengono presentati anche questi pantaloni tipo da lavoro. Questi sono imbarazzanti. O uno si compra, tipo, tutta la tuta, quindi fa giacchetto, pantalone, zaino e cappello, e a quel punto lì uno fa la foto, è beast, è fighissima. Oppure, se ti prendi un pezzo, lo devi sapere abbinare, ripeto, perché veramente... Facciamo insieme questa ricerca. Basta. Andiamo su Google e scriviamo sacchetto metallizzato e vediamo un po' cosa ci viene fuori. Sacchetto metallizzato, sbagliate anche a scriverlo. Vedete, tipo, sulla destra appaiono già i primi sacchetti, ma noi vogliamo essere più testardi, quindi andiamo prima in immagini. Eh, vedete? Guarda, qui c'è quello bronzo, qui c'è quello oro, ci sono, no? Un po' queste buste, colorazioni. Ma noi vogliamo essere testardi. Carta uovo di Pasqua. Ecco qua, eh, ci siamo, eccoci, ecco qua. Vedete? Il colore dell'uovo di Pasqua, ecco qua. Uguale alla collaborazione Supreme per The North Face. Quindi, passata anche ora la Pasqua e Pasquetta, uno spunto di foto da beast potrebbe essere con questa carta da uovo di Pasqua sul dietro, no? Ve lo propongo io così. Ora, a prescindere da tutti i discorsi, la collaborazione, snì, non mi entusiasma, ma nemmeno mi disgusta completamente, a parte quello che appunto ho appena detto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Con il mio giudizio non voglio dire che se un'altra persona la pensa in un altro modo è sbagliato. A chiunque di voi potrà piacere tantissimo, comprerete tutti i pezzi, contentissimo per voi. Oltre a questi oggetti, la collaborazione, poi usciranno per completare il drop anche sicuramente altri oggetti di Supreme che però per ora non sono ancora stati ufficializzati. Ma quando uscirà questo video sicuramente saranno già ufficializzati. Spero perciò che questa analisi, seppur breve, vi sia piaciuta. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Noi raga ci rivediamo con il prossimo video. Ringrazio tutti per l'attenzione e bella.